Subito in Sicilia, subito a Palermo, un'altra tragedia, in una zona che già aveva vissuto altre storie di questo tipo. Siamo a Casteldaccia, il bilancio è provvisore, ma è già drammatico. Sono cinque gli operai morti. Raffaella Daino, nostra corrispondente. Raffaella. Sì, buonasera. La tragedia è venuta poco dopo mezzogiorno, quando sei operai sono scesi a 5-6 metri di profondità per effettuare alcuni lavori di manutenzione nella rete fognaria e sono rimasti intrappolati nell'ambiente in cui si trova questo impianto di sollevamento delle acque reflue, un ambiente che era saturo di una sostanza altamente tossica, l'idrogeno solfurato che si produce con la fermentazione dei liquami. Cinque sono morti, un sesto è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, si è salvato soltanto il settimo operaio che era rimasto in superficie, ha sentito le urla dei compagni e ha chiamato l'allarme. Nessuno di loro, da quello che ci hanno detto i vigili del fuoco, indossava i dispositivi di sicurezza che probabilmente avrebbero salvato loro la vita. Non avevano le mascherine, nessuno di loro era un dipendente diretto dell'AMAP, l'ente che gestisce l'acquedotto a Palermo, i quattro lavoravano per una ditta esterna e un altro era interinale. E sul problema del precariato e contro la mancata sicurezza sul lavoro, i sindacati hanno indetto domani uno sciopero di quattro ore e un presidio davanti alla prefettura. Grazie, grazie Raffaella Daino. Sono Temi, quella della sicurezza sul lavoro, storia che abbiamo raccontato e stiamo continuando a raccontare, che è quello che abbiamo ascoltato prima da Rolla Scolare, che fanno parte anche del racconto di quello che ci sta separando dalla scadenza del voto di giugno. Ne parliamo con Maria Latella. Maria, bentornati innanzitutto. Ciao Fabio, buonasera, ben trovato. Buonasera e bentornato a Tribù, a Sky di G24, a Stefano Bonaccini, Presidente del Partito Democratico. Presidente, buonasera, grazie per essere con noi innanzitutto. Buonasera. Allora, abbiamo sentito poco fa la cronaca siciliana di questa ennesima tragedia. La sua regione, la regione che lei amministra, ha raccontato e purtroppo ha vissuto storie di questo tipo meno di un mese fa. Sette operai hanno perso la vita. È come se nessuno potesse arginare o riuscisse ad arginare questo trend e questa cronaca terribile che siamo costretti a fare, insomma, col passare dei giorni. Guardi, se dovessi dire qual è oggi una delle priorità, delle priorità per il Paese in ambito dei temi del lavoro, direi che è quello della sicurezza sul lavoro. E se non lo si vede vuol dire che si è ciechi. Peraltro, tiene insieme un tema che i sindacati stanno ponendo all'attenzione della politica, che è quello dei subappalti, e il tema del precariato, che si tengono insieme drammaticamente rispetto anche, mi pare, dalle prime notizie che avete dato del drammatico incidente che è accaduto oggi. Io penso che su questo bisogna muoversi immediatamente, c'è troppa precarietà in questo Paese, e fino a che il lavoro precario non sarà meno conveniente di quello stabile, per questo io insisto nel taglio del cuneo fiscale, una delle priorità deve essere quello di dare benefici fiscali a quelle imprese che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato. E dall'altra il tema della sicurezza sul lavoro, questo tema del continuo appalti, subappalti e infiniti ulteriori subappalti, sta portando a disastri che vediamo peggiorare e non migliorare. Quindi mi pare che questa sia la priorità delle priorità. Posso chiedere una cosa? Prego. Ma Presidente, lei che conosce il territorio, come spiega il fatto che molto spesso i lavoratori vengano lasciati in cantiere senza le minime misure di sicurezza? È successo così anche a Palermo, eppure sono decenni, io ricordo i moniti del Presidente della Repubblica Napolitano, sono decenni che si dice alle aziende accertatevi che siano rispettate le norme di sicurezza. Sono previste delle multe, anche la nuova misura prevista dalla Ministra Calderone. Lei come se lo spiega? Lo chiedo, come dire, da cittadina, perché mi pare impossibile che le stesse aziende siano così indifferenti. Eh ma, accade per le cose che ho appena detto. Si sta proseguendo e proliferando nella concessione di subappalti, ed è chiaro che laddove devi risparmiare il tema della sicurezza sul lavoro, per alcuni che sono irresponsabili se non peggio, diventa una delle ultime cose che devi guardare. Dall'altra però, rispetto a quello che correttamente diceva lei, tu puoi darle multe finché vuoi, ma guardi che non è lì il punto, che pure è un punto. Il tema è che bisognerebbe, e non lo sta facendo il governo, investire ancora di più sul tema dei controlli. Ci sono pochissimi controlli in giro per i territori. Tra l'altro alcuni incidenti abbiamo visto. E quindi credo che bisognerebbe investire lì, più che sulle multe. Anche nella messa in sicurezza di edifici pubblici, abbiamo visto quante, al di là del privato che è impegnato nelle ditte che poi lavorano e mettono appunto quegli operai nei cantieri, spesso quei cantieri sono anche, diciamo, custodiscono edifici. E posso dire, e posso dire anche il tema che il Partito Democratico sta ponendo in Parlamento, per la verità tutte le opposizioni insieme, va riconosciuto, è il tema del salario minimo legale. Ma secondo voi, quando tu permetti a 4 milioni di lavoratrici e lavoratori, cioè permetti, scusi, costringi, di lavorare a 2-3-4 euro l'ora lordi, ma è una misura di un paese civile? Su questo però vi siete magari trovati uniti, ma... Ed è incredibile che su questo non si possa trovare una convergenza tra tutta la politica in Parlamento. Quello stavo per dire, non c'è stata. Perché è evidente che quelli che non vivono così vanno a cercare di fare anche altri lavori, ovviamente sempre precari, sottopagati, meno sicuri.